Sarà il circolo tennis Silvi presso gli impianti del Marina di Città Sant'Angelo ad ospitare i campionati italiani a squadre Lady 45 di tennis. A sfidarsi nella tre giorni dal 24 al 26 giugno saranno il circolo tennis Firenze, il match ball Firenze, nelle cui fila milita Valentina Padula, neocampionessa europea, campionessa mondiale di doppio e attuale numero 2 al mondo over 45. Le altre due squadre arrivano dal Lazio e sono Oasi di Pace Roma e Canottieri Lazio. Un campionato veterani, femminile, ne abbiamo diversi, però è una categoria abbastanza giovane e quindi le atlete a che partecipano sono di grande valore da un punto di vista assoluto, classificate in seconda categoria e che hanno conquistato titoli mondiali e titoli europei. Coni, sempre presente quando si parla di tennis, ma comunque quando si parla di queste manifestazioni. Noi siamo molto felici anche perché è un modo per cercare di avvicinare il più possibile, come dicevo prima, i ragazzi allo sport. Quindi con queste grandi manifestazioni, ovviamente i ragazzi, se si riesce a portarli durante la manifestazione, vengono più invogliati a intraprendere lo sport. Noi abbiamo ottenuto dalla Federazione Italiana Tennis l'onore di organizzare questi campionati italiani a squadre Ledi 45, che sono le finali delle quattro squadre più forti d'Italia che si sfideranno sui campi da tennis per giudicarsi il titolo di campione italiano. Quando c'è una manifestazione importante come questa non può fare che bene al movimento sportivo, al tennis, a noi come associazione ci crea anche orgoglio di organizzare eventi così importanti. In questo ringraziamo la Federazione Italiana Tennis che ci ha dato questa opportunità e ha creduto in noi. Non è il primo anno perché anche nel 2016 ci affidò l'organizzazione dei Ledi 40 e noi ne fumo molto contenti. Sono in qualità di rappresentante del comune di Città Sant'Angelo, essendo il Presidente del Consiglio, non posso che essere onorato di ospitare questa manifestazione così importante, una manifestazione che accoglie i campioni a livello nazionale, dell'età non più diversamente dai ragazzi.